Ciao, allora, volevo un po' parlare di Inter-Napoli, Inter-Napoli che in pratica è stata una partita dove, come al solito, il Napoli davanti ha un attacco che è spuntato, perché dico questo? perché non è riuscita, nonostante la molle di gioco, Asfurt non fa i gol che il gioco dovrebbe far fare, no? come cosa, e quindi, poi alla fine c'è il tuo vittimismo, prima fate i gol e poi non mugliate, ok? perché sennò polpette, come vi dite voi, non ne arrivano, purtroppo poi è un'altra cosa, chi semina raccoglie, tutte quelle polemiche fatte da De Laurentiis ora se le beccate, contro, bene così